La vita è bella, anche se passa la svelta. La vita è piena di cose belle, interessanti, affascinanti, conosciamo, cresciamo, impariamo ad amare. È piena anche di cose brutte, negative, che ci fanno del male, dove non riusciamo a incontrare gli altri, dove l'odio sembra prevalere. E la vita è bella così, che bisogno c'è di attaccarci alla risurrezione? Perché parlare di risurrezione dai morti? Non basta quello che abbiamo, poco, tanto, quello che c'è, sembra sufficiente. Perché stare lì a inventarsi un altro mondo, un'altra realtà, un'altra situazione? A che serve? Non si può essere credenti tranquillamente, semplicemente sperando in questa vita, di poter vivere il meglio possibile e basta, fine della discussione. Molti credenti la pensano così. Quello che sto dicendo è quello che pensa la maggior parte dei praticanti cattolici, non di quelli che non credono, non frequentano, eh? No, no, no. Dei praticanti cattolici, non c'è nessun bisogno di pensare alla risurrezione. Eppure dentro di noi c'è qualcosa che ci fa dire che non basta questa vita. Tutti noi sappiamo che l'idea di scomparire nel nulla non è così semplice da accettare. istintivamente ciascuno di noi dice, ma com'è possibile? Tutto quello che costruisco, sono, penso, sento, via, scompare nel nulla. Non esiste più e basta. Fine della discussione, fine dei giochi. Questa pagina che abbiamo appena ascoltato tocca il tema della risurrezione. Non affronta sistematicamente tutto il mondo della risurrezione. È una risposta puntuale a una domanda puntuale. quindi apre alcuni spiragli, ma ci aiuta forse ad entrare un po' dentro la logica giusta. Il caso è semplice. I sadducei, noi quando pensiamo al mondo ebraico pensiamo ad un mondo monolitico dove tutti pensavano nello stesso modo, ma non è così come non lo è nel cristianesimo, come non lo è in nessuna religione. I sadducei erano un gruppo di ebrei che consideravano validi solo i primi cinque libri della Bibbia e quindi non consideravano né i profeti né i libri storici come testi ispirati. Solo i testi scritti da Mosè, secondo la tradizione, i primi cinque libri. E nei primi cinque libri non c'è nessun accenno, secondo loro, alla risurrezione, che invece emerge nei profeti, emerge nei libri storici, in altre situazioni dove piano piano Israele ha maturato una coscienza e una consapevolezza diversa. E vanno da Gesù e pongono il problema. Perché dovremmo pensare alla risurrezione? Pongono un problema che è un po' un problema scolastico, che non si capisce se è sul serio o se è solo per prendere in giro chi pensa che si risorga, perché il caso che viene proposto è un caso un po' limite e inesistente nella realtà, dove però ti dicono, va bene, questa si è sposata con sette persone diverse, alla fine risorge e di chi è la moglie? Che è un modo per dire, ma lascia stare, che cosa te ne fai della risurrezione? O badate bene che è solo una delle molte obiezioni ragionevoli, tra virgolette, all'idea di risorgere. Perché poi ce ne sono molte altre, ma facciamo risorgere, dove, come si risorge, torniamo fuori così, una volta una vecchietta mi ha guardato e fa, ma padre, non è che io risorgo ancora così tutta conciata, ho qua un milione di malattie, un sacco di cose, se poi risorgo, cioè non è che... Allora, è chiaro che di fronte alla realtà della risurrezione noi ci dobbiamo opporre con un minimo di attenzione. Gesù qui dice, secondo me, almeno tre cose che ci possono servire per ripensare questa realtà. Non è il tutto, sono solo tre aspetti. Il primo è questo, abbastanza radicale. Gesù dice che il Padre ci vuole far risorgere tutti. La risurrezione non dipende dalle nostre capacità o dalla nostra volontà, dipende dalla capacità e dalla volontà di Dio Padre. Lui vuole che noi viviamo. La risurrezione è qualcosa che noi accogliamo come regalo e per fede. Che la vogliamo o no, che ci pensiamo o no, ma in realtà fa parte del dono che Dio fa di se stesso. Tanto che Gesù ha una bellissima espressione, notate poi la finezza, siccome quelli che ha di fronte accettano solo i cinque libri del Pentateuco, allora lui fa una citazione tratta dal libro dell'Esodo e cita espressamente Mosè, che era l'unico che loro ritenevano ispirato. E dice, guardate Mosè, quando ha incontrato Dio, Dio si è presentato raccontando chi era lui, Dio, ma contemporaneamente parlando di noi. Che è una bellissima idea. Mentre Dio si rivela, rivela anche chi saremo noi. Rivela qual è il nostro destino. Lì Dio sta semplicemente dicendo a Mosè, io sono qui per liberarti e per liberare il tuo popolo dall'Egitto. Ma secondo Gesù, lui sta dicendo, guarda, io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Non sono stato il Dio di, perché quelli ormai sono morti. Io sono oggi il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Loro sono vivi. Dio. E quindi il liberatore non è solo dall'Egitto, è il liberatore dalla morte. Dio, mentre rivela se stesso, parla di noi. Mentre fa qualcosa per noi, rivela qualcosa di se stesso. È il Dio della vita, è il Dio che ama la vita, che ha creato tutto ciò che esiste e che ha deciso, per sua grazia e per suo dono e per suo amore, che per noi c'è il dono della risurrezione. Non è una cosa che ci siamo inventati, ce l'ha regalata, come rivelazione, come dono. Secondo aspetto, non ci sono termini di paragone tra questa vita e quella futura, che possano aiutarci a capire come sarà la vita futura. questa cosa che di là non ci si sposa, non si avrà né moglie né marito, a parte che qualcuno è molto contento della prospettiva perché non ce la fa più, ma qualcun altro in realtà resta un po' perplesso perché dice, ma come? Noi ci vogliamo bene, di là non ci riconosceremo neanche più. No, non è questo il problema. Il problema è che il modo di amare, di accoglierci, di volerci bene in mille modi diversi, sarà profondamente diverso da quello che abbiamo oggi. Non c'è il termine di paragone, infatti si usano immagini, anche in altre scritte del Nuovo Testamento, il seme rispetto alla pianta. Non riesci a raccontare quello che sarà, perché sarà novità. Se fosse semplicemente un riproporre quello che conosciamo sarebbe un tornare indietro, e invece un andare avanti. La risurrezione non dice che noi saremo rianimati e che quindi torneremo qua. La risurrezione dice che andremo avanti, che diventeremo un'altra realtà. Noi, in tutto quello che siamo, anima, corpo, intelligenza, passione, amore, affetti, noi, ma in modo così nuovo, che è indicibile. Che è interessante comunque, perché noi a volte pensiamo alla risurrezione come una specie di ritorno indietro. Ed è chiaro che se è un ritorno indietro, ed è un ritorno alle condizioni attuali, c'è ragione la vecchietta di prima, cioè voglio dire, se devo rinascere sciancata e conciata da buttar via, forse è meglio evitarlo. E invece non è così, è l'andare oltre, è l'andare avanti, così come è stato per Gesù di Nazareth. Non è tornato indietro, è andato avanti, ha creato una cosa nuova. Lui è la risurrezione. Entriamo in Lui. La terza idea, secondo me interessante, un po' complicata e non credo che possiamo starci sopra troppo, è l'idea che siccome non ci si sposa, non si genera, ma si è generati. La vita eterna, la vita risorta, non è la vita di chi genera qualcun altro, ma di chi è costantemente generato da Dio. È come se Dio costantemente ricreasse ciò che siamo e noi fossimo sempre figli, come Gesù, come il Figlio nella Trinità. Siamo dentro di Lui, fatti di Lui e quindi saremo eternamente amati e per questo eternamente amore. Allora il fatto che non ci si sposa più e quindi non si avranno più figli, nell'immagine che viene usata qui, poi tenete conto l'osservazione di prima, ok? Sono immagini e non possiamo... È l'idea che quello che saremo sarà essere amati in un modo così totale che tutto il nostro esistere dipenderà dall'essere amati. È come se Dio si riversasse dentro di noi e ci facesse esistere. Un dono d'amore fuori dagli schemi, dalle possibilità. questo brano, io credo, racconta queste tre cose. Poi ce ne sono molte altre su cui si potrebbe dire qualcosa a proposito della risurrezione, ma per noi è importante, credo, fermarci e chiederci quanto questa realtà sia dentro di noi e faccia parte del nostro percorso di fede. Perché se non abbiamo la fede nella risurrezione non riusciamo neanche a capire tutto il messaggio cristiano. Noi siamo destinati a diventare parte di Lui, a diventare così profondamente parte del Figlio, da diventare come Lui, amati infinitamente, generati ad ogni istante, per usare un'immagine temporale, benché inadeguata. E' una cosa che non ci può lasciare così. Perché se la nostra vita di fede è solo sperare che insomma mi vadano bene le cose, che possa funzionare quello che ho, che non ci siano troppi danni nella mia vita, che le persone a cui voglio bene non siano troppo maltrattate, sì, per carità, adesso volete mettere. Cioè, tra la prospettiva tutta qui, tutta dentro e basta, e la prospettiva del pensare dentro la logica dell'eternità e dell'essere in Dio. Noi siamo invitati, siamo chiamati a diventare parte di Lui, in un modo nuovo, incredibile, impensabile da un certo punto di vista. Ma è una cosa grande questa. Allora, accoglierlo per noi vuol dire accorgerci di quale grandezza ci è regalata. Adesso, quando riceveremo il corpo di Cristo, che si regala a noi, in questa vita, in questo tempo, noi diventeremo parte di Lui, perché diventeremo con Lui corpo di Cristo, diventeremo con Lui figli. E comincerà in noi questa vita eterna, che non è solo rimandata al di là, è già una cosa che comincia. Tutte le volte che noi ci comunichiamo, siamo nella vita eterna. Tutte le volte che noi amiamo, siamo nella vita eterna. Tutte le volte che noi accogliamo l'altro come un dono, siamo nella vita eterna. Tutte le volte che viviamo il Vangelo, siamo nella vita eterna. Allora, questo dono che ci è fatto, può spalancare il nostro cuore a una prospettiva nuova, può toglierci le paure, le ansie, perché se non è tutto qui e basta, noi affrontiamo le cose con uno spirito diverso. Puoi anche essere martellato dalla vita e dalle situazioni, puoi persino morire per qualcosa o per qualcuno, ma non ti viene tolta la vita, anzi ti viene ridonata. Un cristianesimo che non ha l'orizzonte della vita eterna diventa una roba smorta, asfittica, incapace di dare speranza. Un cristianesimo così cessa di esistere. Se invece noi lo accogliamo così, come ci viene donato da Gesù il Risorto, allora si apre tutto, è tutto diverso, non ho più paura di niente, perché nessuno mi può più togliere nulla, perché tutto mi è regalato. Affronto qualunque cosa e qualunque situazione, perché tutto è dono e tutto è amore. Chiediamo in questa Eucharistia di poter crescere in questa consapevolezza e nell'accoglienza di questo amore e di questo dono.